Allora, come prima cosa in questa partita fatemi dare il bentornato al pupillo Ismael Ben Nasser, è bellissimo rivederlo in campo, correre, toccare il pallone, fantastico, quindi un bacione al nostro Ismael Ben Nasser, like se hai goduto nel rivederlo in campo e like se hai goduto per questa vittoria del Milan, perché ragazzi in questo periodo i tre punti non sono mai scontati, lo so che molti di voi potranno dire eh sì hai battuto il fosinone, eh nè, se non sei milanista lascia stare, non puoi capire, è inutile anche che te lo spieghiamo, non lo puoi capire perché chi è milanista in questo momento anche se si gioca con la pergolettese è comunque una partita a rischio, quindi contentissimo per il ritorno di Ben Nasser, contentissimo per i tre punti, la prestazione ni, non è che si può aspettare chissà che da questo mila con questi giocatori, con queste assenze, però ripeto, in questo momento portare a casa i tre punti che li metti lì in cascina, poi per i momenti in cui riusciremo a recuperare i giocatori e avere la forza di creare anche un po' di gioco va benissimo. Allora, un primo tempo che era stato bruttissimo, senza grandi occasioni da gol, non ce ne sono state, né da una parte né dall'altra, finché non è arrivato la sliving doors della partita, cioè no, poteva succedere da 0 a 1 e invece è successo l'1 a 0, lì è cambiato tutto perché lì con l'errore di Tomori, che è stato un errore non grave, di più una disattenzione difensiva assurda, io non riesco a capire come cazzo si fa in un momento così delicato, che stai veramente con uno spillo che se ti pungono esplodi, tu riesci a fare un errore del genere Tomori. Ringraziamo di avere un grande portiere che rimane semi in piedi fino alla fine per cercare di evitare il pallonetto, il Frosinone si divora il gollo, lo sbaglia perché lì poteva fare mille cose l'attaccante non ha avuto il sangue freddo, voleva fare il pallonetto, c'è andata bene, Tomori risparmiato, subito dopo il Milan passa in vantaggio con gol di Luka Jovic, e signore se segna Luka Jovic tutto può succedere nella vita, oggi comunque le sensazioni ce le avevo, però devo essere sincero, ce l'avevo anche con la Fiorentina, quindi sono un po' falsale questa sensazione, dire me lo aspettavo oggi il gol di Jovic, me lo aspettavo anche con la Fiorentina, però finalmente oggi è arrivato con la Fiorentina, si era divorato il gol, oggi è riuscito a segnare, e non è neanche un gol semplice, non è che ha fatto un gol così tapina a porta vuota, la palla comunque era al volo, scendeva, è riuscito a coordinarsi bene, la puoi lisciarla, puoi mandarla in curva, puoi non colpirla bene, il gol non è un gol banale, è un bel gol. La prestazione di Jovic, poi domani farò le pagelle e parlerò di giocatore per giocatore, però diciamo che la prestazione nel primo tempo era stata veramente in ombra di Jovic, poi il gol un po' l'ha riscattato, poi ha fatto anche l'assist, ha giocato qualche pallone, ha tenuto qualche palla, si è fatto fare qualche fallo, sembrava un po' più vivo rispetto allo Jovic, che tocca zero palloni in 90 minuti. Quindi, può essere un inizio? Lo chiedo a voi, questa volta sono io che faccio una domanda a voi, non mi voglio esporre, perché in questo momento i facili entusiasmi su Jovic so che ci saranno, lo chiedo a voi, può essere un nuovo inizio per Jovic, la sua avventura nel Milan, l'abbiamo detto tutti quanti, può cambiare con un episodio favorevole, magari a volte la tua stagione sta andando così, impicchiata, poi succede qualcosa che ti rianima e ti rialzi. Questa potrebbe essere la giornata in cui Jovic ricomincia la sua vera avventura con il Milan, quindi va benissimo così. Passiamo in vantaggio, finisce il primo tempo, nel secondo tempo, comunque il Milan riesce a gestire bene, avere lo Stucic a centrocampo con non averlo, fa tutta la differenza del mondo, perché la fisicità, la sicurezza che dà lo Stucic al centrocampo e a tutto il Milan non te la dà nessuno. È veramente un giocatore di una caratura tecnica e carismatica superiore a tutti gli altri, riesce veramente a tenere il pallone, ad accelerare quando c'è da accelerare. Poi arriva questo 2-0 con una magia di Christian Pulisic che finalmente fa il fenomeno, io l'ho sempre detto da Pulisic mi aspetto tanto perché Pulisic non è un giocatorino, Pulisic è un top player, l'unico problema è che è sempre mezzo rotto, però se sta bene è un top player e deve fare quei gol. Oggi ha fatto un gol da top player con un lancio incredibile di magnate, lui che riesce a controllare il pallone, ma prima di controllare il pallone, se avete visto quando hanno fatto vedere se era fuorigioco o no, lui fa quella mezzaluna da grande giocatore per rientrare e fregare il difensore nel fuorigioco. Poi controlla il pallone e si mette davanti al difensore e quindi gli toglie la possibilità di intervenire perché se no là lo falcia probabilmente da ultimo uomo. Poi arriva l'altro giocatore, l'Italia di nuovo la strada, esce il portiere e riesce a concludere in porta. Un gollazzo di Christian Pulisic con un lancio magistrale G-Magic Mike Magnano. Questo deve fare Pulisic, io non mi sorprendo di questo, se questo gol me lo fa un altro calciatore posso rimanere sorpreso, ma Pulisic è un top player e quando gioca a sinistra deve farlo ancora di più. Quando manca le A o Pulisic deve prendersi ancora di più la responsabilità perché a sinistra è il suo ruolo e quando gioca a sinistra fa tutta la differenza del mondo e oggi ha fatto quello che deve fare, nulla di più, nulla di meno. Quello che deve fare, deve farci vincere le partite contro il Frosinone. Io non dico che questi devono vincere la Champions League, ma almeno queste partite, questi giocatori devono fare la differenza. Benissimo, 2-0, riusciamo a mantenere, a controllare, arriva anche il 3-0 su un'azione, credo sia uno schema da calcio d'angolo in cui la palla viene data dietro a Teo Hernandez che la lancia sul secondo palo, Jovic di testa, la spizza in area di rigore e Tomori in sacca. Contento per il gol di Tomori, contento soprattutto che non abbia fatto quella cappellata perché adesso Tomori è l'unico dipensore di ruolo che abbiamo e ci serve come il pane, deve stare bene, deve stare concentrato e deve stare bene e spero che questo gol gli dia anche fiducia. E carica, 3-0, tutto bello, tutto tranquillo, i cambi e tutte e vante le cose, poi il gol si poteva evitare, certamente abbiamo preso un gol un po' da polli con una punizione dalla tre quarti, la mette in mezzo, non la colpisce nessuno, la palla entra in rete, sarebbe stato bello finire con un 3-0, ma no. Ovviamente gli ultimi minuti dovevano essere un po' ansiosi con il calcio di punizione dal limite del Frosinone, un po' di rischi li abbiamo corsi nel finale, però alla fine dai, va bene così. Una serata in cui il Milan ha tante assenze, non è scontato battere il Frosinone, anzi io ero molto pessimista, è stata una settimana abbastanza pesante per l'ambiente Mila con le dichiarazioni a bomba di Maldini su tutto quanto l'ambiente, va benissimo così, ci portiamo questi tre punti a casa, l'esperimento Teo Hernandez, difensore centrale, oggi Teo ha fatto un partitone, sia chiaro, per me ha fatto un partitone, quindi non ha sbagliato nulla, da difensore centrale è stato concentrato, attento, ovvio che l'avversario è quello che è, e gli attaccanti del Frosinone, a parte Sule, che è un giocatore io sono innamorato di Sule ragazzi, veramente incredibile, già quando stavo alla Juve mi piaceva un sacco, giocatore assurdo, pagherei oro per vedere nel Milan un giocatore come Sule, però diciamo che il Frosinone poi in attacco non è che abbia tutto sto granché a parte Sule, quindi Teo Hernandez ha controllato bene, però onestamente mi sembrava un po' sprecato, già mancaleavo, già lì in avanti non si fa granché, onestamente perdere anche Teo perché in fase di spinta l'hai perso, ha fatto due o tre sgaloppate con cui Florenzi poi faceva la diagonale e rimaneva indietro, però Teo un po' l'hai perso. Nelle partite magari un po' più difficili, in cui serve magari difendere bene, Teo sicuramente può dire la sua. In questa partita la scelta di Teo centrale è giusta perché è andato tutto bene, però se il Milan non avesse sbloccato la partita, se il Milan non fosse passato in vantaggio, onestamente Teo serviva più in avanti che indietro. Poi per il resto comunque bene, a centrocampo, il centrocampo finalmente non vede in campo gente come Krunic, gente come Popega, e si vede Musa che corre sempre, Renders che gestisce il pallone, Loftucic finalmente un centrocampo in cui non si vedono questi orrori indegni in mezzo al campo. Cucuese un passo indietro rispetto alla partita che ci aveva fatto emozionare, giocatore da grandissime potenzialità, ma che deve sempre fare quel salto di qualità. Ragazzi domani ci vediamo con le pagelle, quindi andiamo a analizzare voto per voto, fatemi sapere a voi chi vi è piaciuto di più, e ripeto, in questo momento non sottovalutate, non snobbate questi tre punti, perché adesso tre punti per il Milan in queste condizioni non sono mai una cosa scontata. Sfonda il like, iscriviti al canale, sempre Forza Milan, Bella! Grazie a tutti! Grazie a tutti!